I che bello guaglione Tenga una bella pensata No! Fermo! Se la persona che circhi ha il telefonino spento non è raggiungibile Premi 5 e un sms ti dirà quando richiamare Chama ora, è solo Tim Nonna! Sono qui! Nonna, sono tutti nudisti Signori nuda e a vader un babbo